lavoro di rete tra le tante realtà che si occupano di politiche educative sul nostro territorio di Agrate. Penso al nostro istituto scolastico Bontempi, ai vari organi che hanno partecipato alle varie riunioni come il Comitatone Genitori, i genitori del Consiglio Istituto. Penso ad AIRIS che gestisce i servizi 03 sul nostro territorio, l'Associazione Sule, il Cinema Nuovo Di Omate, ma anche la comunità pastorale e Casa di Betania. Questo percorso è stato interrotto bruscamente l'anno scorso e riparte quindi recuperando anche le tante riflessioni che sono emerse in quest'ultimo anno ai noi purtroppo di pandemia, cercando però in qualche modo di trarre più spunti positivi possibili per quello che riguarda un po' l'obiettivo di questo percorso, cioè la formazione di tutti noi genitori, di noi educatori, per appunto l'educazione dei nostri bimbi, dei nostri ragazzi e ragazze. Sappiamo quanto questa situazione abbia portato soprattutto a loro sofferenze educative, figlie chiaramente di questa crisi sanitaria che ha portato regole nuove e quindi come amministrazione ma in particolare come consulta politiche scolastiche abbiamo ritenuto necessario riprendere e riattivare questo percorso. Chiaramente oggi siamo qui al nostro primo percorso, primo incontro più incentrato sul conflitto intergenitoriale, poi Giovanna sicuramente ce ne parlerà meglio, ma la rassegna poi si compone di altri tre incontri che trovate sulla locandina generale di Teste Toste, in particolare incomincio solo a sponsorizzare il prossimo che è quello del 28 aprile che utilizzerà sempre questa piattaforma e questi canali e sarà un incontro più sulla tematica social all'interno del contesto familiare, sarà un'intervista al direttore di Facebook Italia e proveremo insieme a lui a ragionare su questo particolare tema. Non rubo altro tempo, ci tengo di nuovo a ringraziare Cooperativa Iris, in particolare Giovanna Colnago e Giovanna De Gregorio, oltre per l'incontro di stasera anche per lo sforzo tecnologico e tutti i componenti della consulta politica educativa che hanno partecipato al tavolo di Teste Toste, in particolare il presidente Luca Baratti. Niente, grazie e buon incontro e buona serata. Grazie Claudio, rubo due minuti agli interventi di Giovanna, sono Giovanna Colnago e in Cooperativa Iris si ricopre il ruolo di responsabile dei progetti prima infanzia e quindi mi occupo dei servizi per i piccini di Agrate, tra gli altri. A me il compito questa sera, a parte di occuparmi della parte tecnica, perdonatemi perché per me è una novità di autonomia, è un processo di crescita anche questo. Innanzitutto mi preme ringraziare l'opportunità di lavorare in rete alla rassegna Teste con le altre realtà presenti ad Agrate, le altre agenzie educative, ma anche solo persone attente che hanno a cuore la cura dell'infanzia e avere a cuore il futuro delle nostre comunità. Quindi è sempre arricchente e molto stimolante la collaborazione. Si è fatto proprio un bel lavoro e di questo sono contenta. Buona questa opportunità che ci permette di recuperare anche lo sforzo organizzativo fatto l'anno scorso per avviare teste toste e poi l'avvento della pandemia ci ha un po' travolti e quindi come dire sono contenta che finalmente siamo qui oggi per poter affrontare questo argomento che è comunque molto delicato ma che ci sta molto a cuore che è quello del conflitto all'interno della coppia genitoriale. Dirubo ancora due minuti per dirvi come funziona il webinar. Questa modalità è un po' asettica nel senso che noi parliamo ad uno schermo e le reazioni di chi ci ascolta arrivano pochissimo perché non vi possiamo vedere. Però voi avete degli strumenti sulla parte bassa dello schermo e noi vi possiamo dare parola per alzata di mano. Non vi possiamo vedere per cui vi chiediamo di stimolarci, di interromperci, di essere anche ogni tanto impietosi come diceva qualcuno con chi sta cercando di raccontarvi qualcosa che si presume sia un esperto nell'argomento che si sta trattando e comunque che l'abbia approfondito e che sia qui oggi a disposizione per allargare le conoscenze di tutti e per stimolarci in una serie di riflessioni. Per cui per alzata di mano potete intervenire oppure potete usare la chat dove c'è scritto chattare col fumettino potete scriverci i vostri contributi, le vostre riflessioni oppure anche delle domande. Quindi come dire lo stimolo che vi diamo e il suggerimento è quello di partecipare, partecipare anche attivamente attraverso questi strumenti. Abbiamo cercato di rendere questa serata il più interattiva possibile rispetto allo strumento che ci viene concesso di utilizzare e quindi ogni tanto Giovanna che ringrazio tantissimo per lo sforzo organizzativo e l'approfondimento fatto sull'argomento che ci permette di approfondirlo, si fermerà e ci chiederà di fare delle cose, delle cose che farete ciascuno a casa propria e quindi poi vi diamo questa indicazione. Domani mattina pubblicheremo sulla pagina Facebook Iris e Zero Tre insieme a Piccoli Passi e Spazio Gioco Papaveri e Papere una dispensa con tutto quello che Giovanna stasera ci racconta oltre che una serie di elementi bibliografici ma anche relativamente alle modalità partecipative che lei intende utilizzare per cui le suggestioni che lei ci dà poi, non vi so entrare nel merito adesso, le ritroveremo nelle dispense per averne anche un riscontro. Allo stesso modo potete anche inviarci i vostri contributi attraverso quel canale comunicativo in maniera tale che alcune cose non le si possa condividere insieme. Mi sbrigo a dirvi altre due cose. La prima è che questo argomento legato alla conflittualità all'interno della coppia ci è piaciuto il titolo L'amore non esclude il conflitto, immaginando come dire una dimensione in cui ogni tanto si sta bene, ogni tanto si soffre, però non mi dilungo nella declinazione perché poi la lascia Giovanna e quindi abbiamo cercato di renderla più evocativa possibile. Quando parliamo di coppia intendiamo una coppia genitoriale fatta da due persone o più persone nel caso di alcune famiglie allargate che hanno il ruolo di accompagnare la crescita di bambini, quindi sentiamoci rappresentati tutti e quindi quando parliamo di genitori, parliamo di padri, parliamo di madri, non parliamo di persone fisiche con un modello preconfezionato che abbiamo in mente ma pensiamo a persone che ricoprono quel ruolo nei confronti di un'infanzia. Le famiglie di oggi sono diverse, sono plurime. Come servizi prima infanzia ne incontriamo tante, tante anche in difficoltà che fanno fatica a riconoscersi in un modello magari che è un po' culturalmente storicizzato e quindi ci piace essere aperti e vi chiediamo di fare uno sforzo di allattamento perché poi le parole che abbiamo per raccontare alcune cose sono quelle per intenderci. L'altra cosa è che l'elemento conflittuale non è collegato al covid che è vero che sì in alcune situazioni ha inasprito alcune relazioni e quindi magari alcune fatiche sono emerse proprio in relazioni all'eccessiva vicinanza, a uno stato di frustrazione legato alle condizioni in cui siamo costretti a vivere di isolamento dagli altri, di poca possibilità di andare in giro e di essere aperti nei confronti del mondo, però non è dedicato a questo. È il conflitto in senso più generale del termine. Quindi vi ringrazio di essere qui e lascio la parola a Giovanna. Bene, grazie mille Claudio, grazie mille Giovanna. Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti. L'incontro di questa sera, come preannunciato, è proprio volto ad approfondire la gestione del conflitto legata alla dimensione coniugale e alla transizione da coppia coniugale a coppia genitoriale, riconoscendo soprattutto nel conflitto la possibilità di una crescita. Quindi rimoduleremo completamente anche proprio il significato di questo termine. Se ci pensiamo bene, infatti, lo stesso passaggio da coppia coniugale a coppia genitoriale è una crescita. Questo approfondimento è frutto di due contributi pedagogici molto importanti che ho seguito direttamente come formanda. Perciò cito Daniele Novara del Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti e i percorsi di arricchimento delle risorse genitoriali di Raffaella Iafrate dell'Università Cattolica di Milano. Quali sono le finalità di questo incontro? Allora, innanzitutto offrire uno spazio di riflessione sulla propria modalità di essere genitori, uno spazio proprio che in cui il genitore possa sospendere l'azione, pensare un po' a sé, al modo di relazionarsi ai propri vissuti e può avere il tempo anche per porsi delle domande, immaginare anche con il proprio coniuge modalità alternative e nuove strategie per far fronte alle sfide del quotidiano. Portare alla luce e potenziare le risorse del legame genitoriale, ma soprattutto riflettere sul fatto che esiste la possibilità di imparare a leggere, affrontare e gestire anche i conflitti di coppia come occasioni appunto per revolvere insieme, per crescere. Quindi possiamo iniziare con le presentazioni delle slide, Giovanna, per sviluppare appunto le potenzialità personali, insomma per dare il meglio di sé, lavorando, facendo appunto un lavoro di squadra, di coppia. Questo incontro ha l'obiettivo di fornire proprio le indicazioni per scommettere sulla vita due. E per imparare ad affrontare proprio la sfida che il conflitto lancia all'intimità della coppia in maniera creativa. Ecco, ora si vedono nei slide. Prima di iniziare vi chiedo se è possibile di recuperare carta e penna, insomma ciò che avete a disposizione, proprio perché come ho anticipato Giovanna, cercheremo anche in questa modalità a distanza di interagire, che è un pochettino una modalità che ci appartiene e che vorremmo recuperare nonostante la tecnologia. Facciamo una breve premessa innanzitutto sulla tematica del conflitto nelle relazioni umane. Quindi partiamo proprio dal significato etimologico della parola conflitto. Siamo alla slide numero 3, se può esserti utile. confligo, confliggere. Fare incontrare, opporre, mettere a confronto. Questa è una delle declinazioni del termine. Oppure urtare, venire a conflitto, combattere, contrastare. Allora diciamo che noi questa sera sposeremo l'idea del conflitto che Lucrezio ha utilizzato nel Dererum Natura, la natura delle cose. Quindi cosa significa? Incontro e scambio di reciproco ardore, senza né vincitori né vinti. Quindi il conflitto in origine è proprio anche la ricerca di armonia. Da una parte quindi prenderemo in prestito questo significato, dall'altra cercheremo di farne un restyling insieme. Questa è un'immagine evocativa della prossima slide. Ecco, ogni famiglia dovrebbe averne uno. Infatti il compito della famiglia è proprio quello di riuscire ad organizzare le differenze anche attraverso la gestione del conflitto. Sta proprio qui la potenza del conflitto, affinché appunto sia garantita l'appartenenza senza per questo annullare o soffocare le diversità. Si parte proprio da qui. Questo è uno dei nostri grandi compiti. Divergenze e conflitti infatti come ben sappiamo sono parte insopprimibile di ogni relazione, proprio perché essa lega due o più persone che hanno molto frequentemente, per fortuna, diversità di opinioni, punti di vista, atteggiamenti fondati su bisogni e desiderio che sono spesso contrastanti. Si parla infatti solitamente di danza dell'incontro-scontro. Il conflitto è appunto cruciale nella relazione tra le persone. Questo però non significa che è da intendersi necessariamente come pericoloso o distruttivo. Anzi, a seconda di come viene gestito, può assumere una valenza costruttiva o distruttiva. Questo lo sapete molto bene, voi che siete genitori. Al di là dell'oggetto di disaccordo, il conflitto affonda sempre le sue radici in un difficile equilibrio tra due dimensioni, tra due bisogni costitutivi proprio del genere umano. Da una parte il bisogno di affiliazione e di appartenenza. Io sto, sto dentro. E questo porta a sottolineare la somiglianza all'altra persona, all'altro individuo. Dall'altra invece il bisogno di individuazione, separazione, che afferma e rivendica comunque la propria individualità. Io vado. Quindi da una parte io sto, sto nella relazione, dall'altra io vado. Ho bisogno del mio spazio vitale. Pensate un po' anche alla cosiddetta fase positiva dei vostri bambini. È proprio qui il fulcro del nostro argomento. Perché parlando di conflitto è ovvio che parliamo sia di conflitto di coppia che di conflitto all'interno del rapporto intergenerazionale. Il conflitto, se gestito in modo costruttivo, se non diventa terreno per la squalifica dell'altro, può diventare proprio occasione relazionale, in cui proprio ciascun membro della famiglia, proprio mediando tra questi due bisogni, dà forma proprio alla relazione. Riesce addirittura a definire al meglio non solo se stesso, ma proprio il legame con l'altra persona. Il conflitto, come ben sapete, è molto frequente nelle interazioni quotidiane in famiglia. Diciamo che molti studiosi hanno addirittura rilevato che la maggior parte degli argomenti di conversazione a tavola è di natura conflittuale. Quindi soprattutto all'interno delle relazioni familiare i conflitti scatenano emozioni molto intense, non sempre facili da gestire, eppure diventano proprio delle grandi occasioni di crescita. Lo vedremo insieme, diventano proprio delle palestre di vita. Ecco a voi un esempio molto carino, divertente e veritiero. Come fare, essere felici! Ehi, Riley, ho una bella notizia. Ho trovato una squadra di occhi giovanile qui a San Francisco e pensa un po', fanno le selezioni domani dopo la scuola. Ma che fortuna, vero? Oh, chi? Oh, oh, che facciamo? Ragazzi, questo, questo... Ecco, farpite di essere gioia! Sarebbe fantastico tornare sul ghiaccio. Oh, sì, davvero fantastico. Che hai combinato, gioia? Non l'avrebbe fatto! Eh, infatti io non sono gioia. Già, puoi dirlo. Lo avete notato anche voi? Certo. Totalmente. Qualcosa non va? È il caso di chiederglielo? Sondiamo, ma con discrezione, in modo che non si ne accorga. Allora, com'è andato il primo giorno di scuola? Ci sta assondando. Mi arrendo, prova tu a fare gioia. D'accordo. Tutto bene, credo. Non lo so. Oh, bella mossa, proprio uguale a gioia. Di sicuro c'è qualcosa che non va. Non si è mai comportata così prima. Che cosa facciamo? Dobbiamo scoprire cosa è successo, ma ci servirà un aiuto. Invia segnale al marito. Oh, oh, ci sta guardando. Che cosa ha detto? Com'è? Oh, oh, spiacente signore, non stavamo ascoltando. La spazzatura? La tavoletta del vattere alzata? Cosa? Che vuoi, donna? Cosa? Oh, ha di nuovo quell'espressione ebete. Potrei strangolarlo quando fa così. Invia un altro segnale. Ah, allora, Riley, com'è andata a scuola? Non ci posso credere. È per lui che abbiamo rinunciato a quel pilota brasiliano. Spostati, faccio io gioia. È andata benissimo, contenti? Riley, va tutto bene. Signore, ha appena alzato gli occhi al cielo. Che cosa le prende? D'accordo, fare la voce grossa. Non voglio usare il pugno di ferro. No, il pugno di ferro, no. Riley, non mi piace questo tuo atteggiamento. Oh, te lo do io, l'appeggiamento. No, 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 sei felice. Che problema hai? Lassami in pace e basta. Rileviamo un alto tasso di insolenza. Portare l'allarme a Death Call 2. Avete sentito, signori? Death Call 2. Senti, signorina, non so da dove viene questo tuo atteggiamento irriguardoso. Ah, vuoi la guerra, paparino? Ti accontento, assomita. Sì, beh, beh. Ci siamo. Preparare il pugno di ferro. Chiave in posizione di sicurezza. Pronti a lanciare al suo ordine, signore? Ah, falla finita! Fuoco! Basta, vai in camera tua. Subito. Pugno di ferro lanciato! Pugno di ferro lanciato! Ottimo lavoro, signori. Poteva essere un disastro. È stato un bel disastro. Andiamo, vola con me, gaccigna. Ecco, diciamo che ci piace molto proporre questo sketch perché molti di noi si possono identificare. Poi è veramente molto un film inside out, penso che la maggior parte di voi conosca. Ecco, avere la possibilità di vedere i vostri visi potrebbe comunicarci anche quel qualcosina in più che adesso non è possibile poter vedere. Ecco, dietro a questo film si collocano proprio le teorie evoluzioniste sulle emozioni primarie e secondarie. Quindi felicità, rabbia, tristezza, paura e disgusto. Come dicevo prima, secondo alcuni autori, in famiglia il conflitto può addirittura assumere la funzione proprio di un'arena della socializzazione. Ecco, perché di arena si tratta. Presuppone proprio la messa in campo di abilità e competenze sociali complesse. Ad esempio, interazione, comunicazione, trovare la strategia proprio per risolvere il problem solving. Bello, film stupendo, mi è piaciuto un sacco. Veramente bello, divertente e profondo. Questo sketch diciamo che è uno dei più divertenti, specialmente la parte finale. Fondamentali proprio per padronizzare gli scambi interpersonali. Quindi diventa una sorta proprio di palestra di vita. Questo è importantissimo. Quindi anche quando ci arrabbiamo, anche in un momento tranquillo come quello della cena, sapere che stiamo facendo anche lì educazione è assolutamente utile. Ci aiuta proprio a ribaltare il punto di vista. Passiamo alla slide 5, intitolata relazione coniugale e relazione genitori e figli. Un pochettino quello che dicevo prima. Ecco, sicuramente il conflitto ha valenze differenti, a seconda che si parli di relazione coniugale o di relazione genitori e figli. Infatti nel primo caso noi stiamo parlando di una relazione simmetrica, in cui la gestione costruttiva del conflitto si basa soprattutto sulla negoziazione. troviamo insieme una soluzione che possa rappresentare una terza via e che soddisfi almeno parzialmente entrambi i partner. Diverso è parlare del conflitto tra genitori e figli. Si possono certamente applicare le stesse strategie, tenendo però presente che noi siamo collocati all'interno di una relazione asimmetrica e pertanto una relazione educativa, e siamo noi gli educatori. Il punto di partenza del nostro incontro è l'approfondimento della dinamica del conflitto gestito all'interno della coppia, ma al contempo appunto, come ho già preannunciato, vedremo insieme come le stesse strategie per litigare bene potranno essere messe in atto anche e soprattutto con i figli. Sapete perché? Perché il vero segreto per litigare bene e rendere costruttivo il conflitto sta proprio in una comunicazione verbalmente efficace e questo vale sempre in tutti i contesti, a partire da quello di coppia fino a quello familiare, scolastico, lavorativo. Litigare bene è fondamentale. Non esiste complicazione senza reciprocità, scriveva Danilo Dolci, sociologo, poeta, educatore e attivista della non violenza. Parlava di litigare bene, questo è importantissimo. Quindi se non si impara a litigare bene, muore la coppia, muoiono le emozioni e l'intimità. Poi approfondiremo anche questo concetto. E si rinuncia soprattutto a una vita piena, complessa, più stimolante, ricca, creativa. Oggi infatti, questo ci succede spesso anche nei momenti di condivisione con le famiglie, ma anche con gli educatori, no? È necessario non tanto chiederci se una coppia è conflittuale o meno, ma soprattutto se sa comunicare, se sa gestire le emozioni, se utilizza la propria conflittualità in funzione di una comunicazione profonda. È per questo che ci piace parlare di comunicazione. È per questo che poi concluderemo il nostro percorso anche non utilizzando più il termine conflitto, ma proprio coesione conflittuale. Perché alla base proprio c'è la comunicazione. Quindi meglio dirsele e dirsele bene ci insegna proprio il famoso pedagogista Daniele Novara, che sicuramente la maggior parte di voi conoscerà, che è fondatore e direttore del Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Lui è un esperto che personalmente seguo da anni e che questa sera è un po' come se fosse tra di noi, soprattutto perché mi sono avvalsa anche di uno strumento che vi presenterò a breve, che ci permetterà anche di interagire un po' a distanza. Liberarsi dal complesso dell'armonia. L'abbiamo citata poco fa quando abbiamo parlato di Lucrezio, se ricordate bene. Magari ecco qui la nostra armonia. Ecco, il conflitto in origine è proprio ricerca di armonia. Vi narro brevemente il mito di armonia. Il mito narra che Zeus diede armonia come dono al re fondatore di Tebe, Kadmo, come ricompensa per aver liberato la città dal mostro Tifeo. L'amore tra armonia e Kadmo fu proprio un amore a prima vista, erano proprio delle fiamme gemelle. Vissero insieme in amore fino a quando Dioniso, Dio malandrino e pazzo per le donne, preso dall'invidia, distrusse la loro casa reale, esiliò la coppia e trasformò Kadmo in un serpente. A quel punto armonia, non potendo accettare di stare lontano dalla sua anima gemella, pregò gli dèi che trasformassero anche lei in un serpente. Il desiderio fu esaudito e i due vissero per l'eternità in pace e amore. Si dice che la d'armonia, tra l'altro, può essere evocata per aiutare la vita di coppia e coniugale, portando un po' l'armonia persa e l'amore. Tra l'altro, il senso etimologico proprio di armonia è giusta relazione, se vi interessa. Ma veniamo un attimino a noi, torniamo nella realtà. Ecco, la visione della vita matrimoniale o di coppe in cui prevalgono l'amore, l'aspettativa del benessere, della felicità reciproca, un po' la visione della famiglia del mulino bianco è uno stereotipo, lo sappiamo tutti. Di più delle volte, infatti, proprio la ricerca di questo stare bene è sostanzialmente la pretesa che l'altro ci dia il benessere che ci manca, che ci è mancato. Queste non sono le mie parole, ma sono le parole, ad esempio, di Adolf Craig, psicanalista svizzero di orientamento junghiano. Proviamo un po' a rivaltare questo stereotipo. È proprio grazie al conflitto e alla tensione della coppia, invece, che si attiva la possibilità di conoscere se stessi. Cioè, quindi si fa un lavoro di coppia, ma al contempo si fa anche un lavoro proprio su di sé, sulla propria crescita individuale. Quindi proprio la coppia diventa terreno e spazio di fertilità reciproca. Si parla proprio di questo. Io spero che sia tutto chiaro. Purtroppo non riesco ad avere dei feedback, però nel frattempo, se qualcuno di voi ha voglia di intervenire, fare una domanda o semplicemente portare il suo contributo, che sicuramente per noi è una ricchezza, si senta libero di farlo. Quindi io vado avanti. Joe, magari tu che riesci a controllare anche un po'. Io vi seguo. Il problema è che facendo la condivisione delle slide riesco a vedervi. Quindi fammi decenni ogni tanto vocali, perché altrimenti mi perdono. Va bene, va bene, va bene. Io nel frattempo vado avanti, anche perché a di Carno del Fuoco ce n'è parecchia. Ecco, parecchi ricercatori sottolineano che le coppie non riescono a mantenere le loro promesse iniziali, non tanto e non certo a causa dei conflitti. Insomma, sostanzialmente non sono i conflitti che portano alle separazioni, ai divorzi, eccetera, eccetera. Esistono piuttosto invece dei fattori complessi della storia individuale di ognuno di noi che trascurati per anni riemergono proprio durante la vita comune. Oppure anche vicende traumatiche, incidenti, tutto chiaro, ok. Perdita del lavoro, fallimenti, mancanza anche di un figlio, che interferiscono pesantemente distruggendo la coesione della coppia e facendo venire meno proprio la ragione d'essere. Infatti, proprio per questo volevo condividere con voi anche un'immagine, anche questa è un'immagine evocativa, che è l'immagine dell'iceberg, ok. Questa è proprio evocativa del fatto che in un conflitto c'è sempre qualcosa di nascosto, di invisibile, di poco chiaro. Emerge sempre la parte più evidente e superficiale, ma sotto si nasconde una zona più complessa e difficile da capire e che però rappresenta la dimensione più interessante proprio del conflitto. è complicato portare a galla la parte nascosta dell'iceberg, anche perché la vera natura delle motivazioni che hanno scatenato la lite risulta poi difficile ritrovarla e comunque non andare a sbatterci contro. Infatti, condividiamo l'ascolto di due esempi di conflitti di coppia. In entrambi entra in gioco il caffè, una tazzina di caffè, una cioccolata, e se il pretesto non è il caffè, però mi piacerebbe insieme a voi cercare di capire quale può essere questo pretesto. Adesso voi ascolterete questi due episodi conflittuali e capirete che in uno il conflitto rimedia quella che viene definita proprio amnesia, ristabilendo una sorta di comunicazione tra i due, che porterà poi a una comprensione reciproca. Nell'altro, invece, non ci sarà la possibilità di venire a capo della situazione, perché non sono proprio chiari i presupposti della coppia. Quindi la domanda che io vi farò, e poi magari se volete intervenire mandando dei messaggi, o anche verbalmente, è proprio questa. se avete identificato il conflitto in cui i presupposti non sono chiari. Cedo la parola a te, Giovanna. Interrompo un attimo la condivisione, va bene? Mi vedete? Sì? Sono ritornata. Allora, Giovanna ha mirato il compito di leggere due storie. Vado. Paolo e Giorgia stanno camminando per rivedere il centro in una fredda domenica d'inverno. A un certo punto, Giorgia chiede a Paolo «Vuoi prendere una cioccolata?» Paolo risponde «No, grazie». La coppia prosegue la passeggiata. Rientrati a casa, Giorgia sembra avere il muso lungo e quando Paolo le domanda di preparare un bel tè caldo, lei esplode. «Sei proprio un egoista. Pensi solo, sempre a te stesso. Non hai voluto fermarti a prendere la cioccolata e adesso vorresti un tè. Fattelo tu, il tuo tè del cavolo!» Paolo sembra cadere dalle nuvole e non capisce l'atteggiamento di Giorgia. «Ma scusa, Giorgia, cos'hai? Mentre passeggiavamo hai fatto una domanda e io ti ho risposto. Proprio non ti capisco». «Eh certo. Tu non pensi mai a quello che potrei desiderare io. Non ti è venuto in mente che magari la cioccolata la volevo io o che volevo scaldarmi un po'? «No, proprio non l'ho capito. Bastava che me lo dicessi e mi sarei fermato a prendere una cioccolata. Vorrei sapere perché non me l'hai detto se la volevi così tanto». La prima storia è finita. Vado con la seconda, Giorgia. Racconta Virginia. È sabato e Guglielmo invita a cena una coppia di nostri amici. La settimana è stata pesante e mi chiede se per vero va bene cucinare. Mi piace cucinare, mi rilassa e gli rispondo che non ci sono problemi. Cerco di organizzarmi, faccio la spesa il sabato mattina, mi resta da cucinare e sistemare la casa. Nel primo pomeriggio Guglielmo mi avvisa, deve uscire per sbrigare alcune commissioni. Ok, ce la posso fare da sola, anche se una mano mi sarebbe servita proprio. Finalmente ritorna, lo stavo aspettando, penso potesse aiutarmi con la casa. Però appena rientrato mi dice, mi piacerebbe fare una corsetta, è un peccato non approfittarmi di una giornata così bella. Che ne dici? Cosa dico? Gli rispondo di fare come vuole e naturalmente Guglielmo non ci pensa due volte, in cinque secondi è già sulla scala. Pronti, in pantaloncini e scarpe da ginnastica. Però prima di prendere il volo mi dice, metti del bianco in frigo? Potremmo fare un piccolo aperitivo, ti va? Anche l'aperitivo? Va bene. Lo preparo, ma questo mi toglierà altro tempo che non ho. Ho fatto quasi tutto, mi mancano ancora una pulita al bagno, il pane da tagliare, le olive carcefine da sistemare nelle ciotole. Ma posso farcela. Proprio mentre Guglielmo rientra fischiettando, mi cade l'occhio sulla spazzatura. Lui ignaro mi chiede, come va? A che punto sei? E io sono al punto che mi sento esplodere e infatti esplodo. Non ce la faccio più e tutto il giorno che sgobbo, non sono ancora riuscita a truccarmi, a cambiarmi e tu non butti neanche via l'immondizia, ma chi sono io, la tua serva? Sembra non capire, è confuso, ribadisce che ho deciso di cenare in casa, non è mica stata una sua scelta e che se avevo bisogno di aiuto potevo chiederglielo. Grazie Giovanna, direi che più chiari di così questi due casi, magari anche qui qualcuno si è un po' rivissuto, ho letto già qualche commento. Ecco, ripeto la domanda, avete identificato il conflitto in cui i presupposti non sono chiari? Il primo episodio o il secondo? Forse non siate timidi. Quanto non vi vediamo, non vi preoccupate. Claudia, anche tu, se hai voglia di dire la tua rispetto a questo, assolutamente, anzi le voci maschili ci piacerebbe anche sentirle. Tutto chiaro? Entrambi? Credo il secondo. Anche io mi sento un po' sconquassato perché qualche episodio così l'ho vissuto e effettivamente sì, nel secondo in particolare mi ci ritrovo. Ahimè. Sì, poi sono fatti veramente, assolutamente fanno parte della vita quotidiana. Quindi, presumo che la maggior parte di noi si possa rivedere. Allora, magari ve lo dico io, ve lo anticipo io. Non è il secondo, il secondo, quello di Virginia e Guglielmo, no? Non era qui che i presupposti non erano chiari, ma il primo. Ok? Quello, l'episodio inerente è la passeggiata e la cioccolata calda. Perché? E questo è importante, ci aiuta proprio a fare anche un lavoro un pochettino più di approfondimento e di consapevolezza anche dell'importanza che assume la comunicazione all'interno del conflitto. Questi esempi scardinano un po' l'idea della giustizia relazionale, quindi per cui non conta tanto saper affrontare il conflitto, ma essere ascoltati, Giorgia in quel momento pretendeva, tra virgolette ovviamente, di essere ascoltata, considerata, ok? Non si è sentita proprio considerata. Poter a volte nella vita avere ragione come proprio se si volesse ristabilire una sorta di giustizia, no? Rispetto a qualcosa che non abbiamo avuto. Ecco, in quel momento lei non ha avuto, non è stata ascoltata in merito a quello che era il suo desiderio, no? Bere la cioccolata. Non si tratta di una situazione legata però all'attualità del conflitto. Io mi sono divertita a sentire le storie. Tutto vero, a me è capitato il primo caso e anche il secondo. Grazie Barbara. Bensì, proprio qualcosa che proviene dall'infanzia, una mancanza. Quindi la coppia incastrata in questi vissuti emotivi non è proprio in grado di sviluppare la competenza conflittuale e impara a vivere ovviamente con creatività la propria relazione. Però non riesce, come hanno fatto invece Guglielmo e Virginia, invece a fare emergere quel disagio nascosto che in quel momento avviene. Ok? Perché in quel momento è successo proprio questo. Quindi l'amore non escude il conflitto. Ritorniamo alla presentazione delle nostre slide. I veri conflitti tra due persone non sono mai distruttivi. Portano proprio alla chiarificazione, producono proprio una purificazione nella quale entrambi i soggetti emergono proprio con maggiore esperienza, maggior forza. Quindi si tratta proprio di una visione completamente differente del concetto anche di amore, anche più una versione creativa anche del concetto di amore. È possibile solo se due persone comunicano tra di loro dal profondo del loro essere. Ok? Io ti comunico proprio quello che in questo momento io sto vivendo. Si parla ancora di comunicazione. C'è solo una prova che dimostri proprio la presenza dell'amore, La profondità dei rapporti, la vitalità, la forza in ognuno dei soggetti. Nel primo caso questo non si evinceva, nel secondo assolutamente sì. Ribaltiamo quindi la prospettiva. Siamo alla slide numero 10. riconoscere che il problema non è il conflitto contrapposto all'amore ma che per amarsi occorre proprio imparare a litigare bene diventa una forza innovativa che attraversa proprio le coppie dei nostri giorni. Quindi dobbiamo accettare proprio il conflitto come una fatica, una fatica però necessaria per conoscersi e poter vivere felici e serenamente insieme. Ora, per rendere anche un po' dinamico e interattivo questo incontro seppure a distanza vi proponiamo di fare un piccolo gioco, un test per valutare proprio la vostra competenza conflittuale di coppia. Quindi, pertanto, prima proponiamo un test al pubblico femminile e poi a quello maschile. Ad ogni risposta corrisponderà un punteggio. Non preoccupatevi se per questioni di tempo stasera non riuscirete a conteggiare il punteggio perché vi invieremo come diceva prima Giovanna delle dispense all'interno delle quali troverete i vari punteggi attribuiti alle risposte. Quindi, carta e penna in mano e vi proponiamo il primo test. La competenza conflittuale in coppia al femminile. Siete tutti pronti? C'è la manina Gio qui? Riusciamo a vederla? Sì? Ok. Possiamo iniziare? Mi dai tu l'ok Gio? Vai vai Gio. Ok. Prima domanda. Siete alla cassa del supermercato. Lui risponde dei messaggi sul cellulare e tu devi arraggiarti da sola. Cosa fai? A. Gli urli in faccia che deve aiutarti. B. Gli proponi di darti una mano. C. Non gli dici niente quando avrà finito ti aiuterà. D. Ti arrabbi con te stessa perché non sai importi. Vado. Vai. Ok. Due. ha prenotato al ristorante. Vi fanno sedere ma dopo un'ora il cameriere non è ancora venuto a prendere le ordinazioni. Come ti comporti? A. Ti lamenti con lui perché come al solito ha scelto il ristorante sbagliato. B. Suggerisci che forse è meglio andare via. C. Ti nervosisci perché pensi che siete i soliti sfigati e capitano tutti a voi. D. Gli proponi di telefonare a un altro ristorante. Ci voleva la musichetta di sottofondo. Io vado eh. Tre. In pizzeria al tavolo vicino si siede una donna piuttosto avvenente. Lui la guarda. Tu. Pensi di non essere abbastanza interessante per lui. B. Gli chiedi se ha bisogno di un cannocchiale e gli tiri un calcio sotto il tavolo. C. Cerchi di distrarlo. D. Gli dimostri di essere in imbarazzo. Quattro. Per Natale ti fa un regalo che proprio non ti piace. Tu. A. Pensi che può succedere a tutti. Glielo dici e lo cambierete insieme. B. Fai finta di niente con tal pensiero. C. Ti arrabbi e gli dici apertamente che il regalo ti fa schifo e che non ti conosce affatto. D. Ti viene un gran magone ma non dici nulla. Vado? Sì, ti rispondo io però. Cinque. Hai ricevuto una telefonata da sua madre che ti suggerisce un corso di cucina perché ha trovato suo figlio piuttosto dimagrito. Cosa fai? A. Ne parli con lui e gli dici che sua madre è scortese. B. Stai malissimo ma non gli dici niente per non rovinare la vostra storia. C. Lo attacchi dicendogli che sei stufa che deve scegliere fra te e sua madre. D. Ti scoccia però provi a studiare qualche nuova ricetta. Qualcuno nei commenti di ogni tanto tu A. Gli dici che è insopportabile e te ne vai sbattendogli la porta in faccia. B. Ti fa arrabbiare e pensi di aver scelto come sempre la persona sbagliata. C. In quel momento lo vedi assente quindi gli chiedi quando potrai parlargliene. D. Gli parlerai un'altra volta. Comunque le risposte C e D chiedono una plomb Joe che veramente eh sì quindi qui vedete proprio la slide con il punteggio di tutte le risposte adesso vi sintetizzo da 12 a 10 punti eccellente ricordiamoci che riguarda proprio la vostra competenza conflittuale in coppia da 9 a 8 punti siete sulla buona strada da 7 a 3 punti potete migliorarvi da 2 a 0 punti c'è molto da fare ma ce la possiamo fare. Vado? Sì ora passiamo al pubblico maschile la competenza conflittuale in coppia al maschile 1 siete alla cassa del supermercato no per me c'è il divorzio si fiduciosa o fiducioso non lo so siete alla cassa del supermercato stai rispondendo a un messaggio di lavoro sul cellulare lei ti dice di muoverti ad aiutarla cosa fai? Le sbuffi in faccia le dici che la solita rompi scatole le dici b le dici di darti ancora un minuto per rispondere all'sms c continui a restare incollato al cellulare d ti arrabbi con te stesso perché non sai farti rispettare due peccato che non ci sia mio marito poi Antonella glielo puoi riproporre l'idea è di mettere le slide quindi potrete recuperarlo poi in un secondo momento e farvi un'auto valutazione due ha prenotato al ristorante vi fanno sedere ma dopo un'ora il cameriere non è ancora venuto a prendere le ordinazioni come ti comporti? ti lamenti con lei perché come al solito ha scelto il ristorante sbagliato b le dici che forse è meglio andare via c ti nervosisci perché pensi che siete i soliti sfigati e capitano tutti a voi di le proponi di telefonare a un altro ristorante entro in cucina e entro in cucina grazie Stefano tre in pizzeria il cameriere durante l'ordinazione scambia alcune battute con la tua donna tu a pensi che il cameriere sia più interessante e simpatico di te b le dici di non fare loca che poteva evitare la scollatura e minacci di uscire dal locale c le dici che stasera è carina e che anche il cameriere se ne è accorto d le dimostri di essere in imbarazzo di essere in imbarazzo 4 per Natale per Natale ti fa un regalo che proprio non ti piace tu a pensi che può succedere a tutti glielo dici e lo cambierete insieme b fai finta di niente con tal pensiero c ti arrabbi e le dici apertamente che il regalo ti fa schifo e che non ti conosce affatto d ti viene un gran magone ma non dici nulla 5 hai ricevuto una telefonata da sua madre che ti dice di aiutare sua figlia in casa perché non siamo più nel medioevo cosa fai? a ne parli con lei e le dici che sua madre è scortese b ti infastidisci ma non le dici niente per non rovinare la vostra storia c le urli che sei stufo che sua madre continui a intromettersi nella vostra vita di non dici niente e pensi che prima o poi la smetterà siamo arrivati alla fine 6 domenica dopo pranzo tu le stai parlando dei tuoi problemi sul lavoro lei continua a sbrigare le faccende di casa mogognando ogni tanto tu le dici che è insopportabile te ne vai sbattendole la porta in faccia b ti fa arrabbiare e pensi di aver scelto come sempre la persona sbagliata c in quel momento la vedi assente quindi le chiedi quando potrai parlarle d le parlerai un'altra volta totale del punteggio come prima da 12 a 10 punti eccellente da 9 a 8 punti siete sulla buona strada da 7 a 3 punti potete migliorarvi da 2 a 0 punti ci sarà molto da fare intanto in bocca al lupo ok niente speriamo comunque di avervi un po' fatto divertire anche con questo con questo piccolo test cosa succede quindi essere in grado di porsi in maniera costruttiva di fronte a un conflitto condiziona positivamente la relazione di qua possiamo migliorare ok bene grazie Beatrice ecco quello che in realtà nel tempo poi influisce davvero sulla tenuta della coppia è proprio la capacità di ognuno ovviamente di gestire il conflitto più un patron è convinto che sia possibile gestire bene un conflitto più questa convinzione plasmerà il suo comportamento in maniera efficace quindi dobbiamo partire giù rispetto a quello che hai detto prima delle altre reazioni che richiedono ovviamente più Sonia 7 punti Giuseppe 8 grazie Sonia e Giuseppe ok richiedono proprio scusate mi interrompo perché sto leggendo anche i vostri interventi possiamo migliorare bene anche nella question and answer anche l'altra opzione Elena ci dice che anche loro possono migliorare con una faccina un po' così no no dai è bello anzi dei buonissimi presupposti ecco quindi diciamo che un atteggiamento proprio di apertura fiducia in se stessi nella capacità di soddisfare il proprio patron è sicuramente importante però abbiamo visto insieme proprio perché in questa capacità dobbiamo migliorare non basta litigare può definire se sinonimo di conflitto o sono due cose diverse ok litigare e conflitto litigare e conflitto sono la stessa cosa ok proprio arriveremo proprio a giungere a questa conclusione litigare bene è sinonimo di conflitto ecco ok grazie occorre proprio un atteggiamento costruttivo no proprio per costruire un conflitto litigando bene però è importante sapere come fare vi daremo proprio degli strumenti concreti però è giusto anche in merito anche a questo tuo intervento fare aprire una piccola parentesi proprio sulla differenza che c'è invece tra conflitto e violenza che sono due cose completamente diverse sgomberiamo proprio il campo dall'idea che conflitto e violenza siano termini sovrapponibili imparare a litigare bene non ha nulla a che vedere proprio con la violenza spesso infatti chi non sa litigare non è capace di evitare la dannosità della violenza contro l'altro o addirittura anche contro se stessi quindi partiamo da questo presupposto sono proprio le emozioni gestite male che degenerano in violenza prima fra tutte la rabbia e la paura per quanto riguarda la rabbia vi suggerisco un piccolo libretto molto utile da leggere tutto d'un fiato si intitola le sorprendenti funzioni della rabbia di Marshall Rosenberg lei ci invita proprio ad abbandonare l'idea che la rabbia sia qualcosa da reprimere ci consiglia piuttosto di viverla come un dono che ci porta proprio a scoprire quali sono i bisogni che stimolano la nostra reazione vediamo insieme proprio la tabella le sorprendenti sì esatto le sorprendenti funzioni della rabbia sì è bellissimo poi ve lo lascerò anche in bibliografia vediamo insieme la tabella che evidenzia proprio la differenza tra violenza e conflitto la slide 27 ecco questo è utile leggerlo insieme vediamo proprio il conflitto serve a gestire le emozioni come dicevamo prima e la violenza le traduce in azioni cosa significa violenza danneggiamento intenzionale del partner con presenza di danno irreversibile sia di tipo fisico che psicologico e conflitto come abbiamo già detto significa contrasto contrarietà divergenza opposizione resistenza critica senza però componenti di dannosità irreversibile violenza nella violenza c'è proprio la volontà di risolvere il problema che è il conflitto il conflitto diventa un problema eliminando chi porta il problema stesso eliminazione nel conflitto c'è l'intenzione di affrontarlo dal problema quindi affrontare insieme di confluire senza ledere alla persona nella violenza si elimina proprio la relazione come forma di soluzione io risolvo il problema si elimina o annullo completamente la relazione nel conflitto invece c'è uno sviluppo sostenibile della relazione possibile quindi anche se la relazione è faticosa io ci sto dentro non la elimino questo è importantissimo ecco litigare bene ritornando alla domanda di prima rende la coppia più felice comunicativa interessante ed è un antidoto alla violenza perché consente proprio di prevenire nella propria relazione le forme di distruttività reciproca la competenza conflittuale ovviamente va sviluppata e incrementata attraverso un continuo lavoro consapevole su se stessi richiede un percorso un percorso anche lungo vediamo insieme la differenza tra carenza conflittuale da una parte e competenza conflittuale dall'altra Gio posso fare una sì vai vai mentre ci raccontavi di queste definizioni in parallelo mi viene in mente quando lavoriamo con i bambini molto piccoli proprio sull'imparare a regolarsi e quindi a vivere in maniera sempre più consapevole la parte emotiva anche con gli sfoghi che ogni tanto travolgono i bambini e quindi sono completamente sconquastati da questo e il messaggio che si cerca di far passare dal punto di vista educativo è proprio questo l'emozione non la si può negare cioè esiste ed è legittima nel momento in cui la si prova è il comportamento che ne consigue la modalità che ci fa riorientare in una logica di positivo o negativo mi viene da dire anche ogni tanto bene e male e quindi mi piaceva questo parallelo anche sul come trasmettere ai bambini questa competenza di distinguere tra quello che sto provando che nessuno nega che esiste e c'è ma e come mi comporto di conseguenza esatto interessantissimo quello che hai detto Giovanna anche perché è proprio la base si lavora di questo anche qui soprattutto all'interno della dimensione educativa non è un retaggio un po' quello che ci siamo portati negli anni che siamo riusciti poi a riformulare non è il contenere le emozioni cioè il lavoro che si fa con i bambini non è quello di bloccare l'esperienza sin da neonati l'esperienza del pianto l'esperienza della rabbia quanto invece accompagnare nella comprensione nella gestione di queste emozioni che è ben diverso dal controllarle stessa cosa vale proprio all'interno del conflitto di coppia e si parte sempre da questo presupposto è sempre importante lavorare su se stessi per poi riuscire a trasmettere ai propri figli un valore che in questo caso è proprio un valore educativo questo è importantissimo anzi grazie per il tuo intervento eravamo sulla sulla differenza tra carenza conflittuale e competenza conflittuale la carenza conflittuale è proprio l'incapacità di stare nella tensione relazionale quindi io non sono capace di stare di vivere il conflitto e lo vivo anzi come una minaccia insopportabile quindi lo nego dall'altra invece la competenza conflittuale sta nella capacità di stare nella tensione relazionale affrontandola proprio come una situazione che può essere gestita e questo è importantissimo arriviamo al fulcro no? perché l'interiorità si parla di interiorità condivisa che cosa significa? è proprio l'origine dei tigi tra i partner ok? la coppia nasce dall'intimità anche qui parliamo del senso etimologico proprio del termine intimità che deriva da superlativo assoluto di intus da intimus intus è proprio la parte più interna più nascosta più profonda di ognuno di noi intimare significa il latino al contempo annunciare far conoscere è un movimento invece che parte dall'interno e va verso l'esterno quindi l'intimità è da una parte una particolare vicinanza emotiva e fisica tra due esseri umani e dall'altra proprio una comunicazione interna esterna verso l'altro un aprirsi importantissimo quindi è proprio da qui intimità è l'esclusività la complessità enigmatica anche della coppia quello che ci diciamo noi quello che sappiamo di noi del nostro essere non può essere raccontato al di fuori di quella che è la nostra relazione questo è importantissimo e le coppie non litigano perché l'intimità è venuta a meno ma piuttosto per il contrario proprio per il fatto stesso di essere troppo intimi quindi la loro intimità ha consentito di condividere conoscenze informazioni contenuti profondi che nei litigi si rivelano però molto molto importanti una frase del tipo certo anche tua sorella è anoressica quella anche può essere può diventare proprio matrice proprio di un forte litigio diventa proprio un'insidia ok proprio perché io riconosco dell'altro la sua parte più intima quello che può scatenare quella parola associata anche al ruolo della sorella del partner mi piacerebbe condividere la sorella dei porcospini di Schopenhauer dilemma proprio del porcospino quando arriva il freddo i porcospini cercano di stringersi tra loro per riscaldarsi man mano che si avvicinano si pungono a vicenda con le loro spine così si allontanano per evitare di ferirsi il freddo però le spinge nuovamente ad avvicinarsi dopo molti tentativi di avvicinamento e di allontanamento i porcospini scoprono che la cosa migliore è rimanere vicini l'uno all'altro ma non attaccati questo è importantissimo a proposito dell'intimità l'intimità proprio genera un gioco di specchi lì e l'altro si confondono quasi si annullano per poi ritrovarsi il conflitto regola proprio questo gioco lo consente l'intimità come dicevamo prima reattiva anche antiche emozioni quindi ricordi proprio specifici dell'infanzia vissuta con i propri genitori gli adulti in genere o quelli di riferimento in situazioni educative ma anche con i fratelli le sorelle i compagni i cosiddetti fantasmi del passato ecco queste sono emozioni spesso collegate a ferite dolorose a una sofferenza che ha attraversato la nostra vita da bambini e qui ritorniamo sempre ai bambini i primi anni di un individuo come tutti noi ben sappiamo sono proprio un bacino inesauribile di emozioni che possono essere piacevoli spiacevoli di cui per causa maggiore poi abbiamo poca consapevolezza però sono ricordi che se da una parte sono irraggiungibili dall'altra riemergono proprio in maniera non intenzionale nei momenti in cui nascono i conflitti di coppia ok si chiamano Novara li definisce i cosiddetti tassi dolenti infatti cosa succede? succede poi che i tassi dolenti a un certo punto si trasformano addirittura in macini che schiacciano completamente il rapporto di coppia quindi noi cosa dobbiamo fare per aiutarci vicendevolmente? riconoscere quello che sta accadendo in quel momento permette proprio di fare una manutenzione della vita affettiva quindi garantisce a se stessi al padre uno spazio che in quel momento riesce ad essere sgomberato dai retaggi del passato dai cosiddetti fantasmi però è importante fare questo lavoro che è un lavoro faticoso di quindi tutto interiorizzazione e anche di elaborazione di questi fantasmi però veniamo adesso visto che siamo un po' fuori tempo alla collocazione del buon conflitto nel frattempo però se avete interventi o domande ovviamente non esitate non esitate a farli quindi siamo alla slide 33 dove si colloca il buon conflitto allora prima di tutto è utile prendersi il tempo secondo me ognuno nella coppia deve avere i propri spazi senza però dimenticarsi dell'altro è assolutamente così Antonella è proprio la storiella dei porcospini un po' fa evincere proprio l'importanza stiamo vicini non ci dimentichiamo dell'altro però al contempo è importante tutelare il proprio spazio vitale è importantissimo questo ci lasceremo proprio su questo su questo aspetto prendersi il tempo necessario nel momento in cui subentra il conflitto per passare dall'emozione al conflitto in un litigio quindi è fondamentale riuscire a prendere tempo per cercare una sorta di interstizio tra ciò che sta succedendo e la nostra reazione emotiva è difficile ma ce la si può fare il famoso contiamo fino a 10 sostanzialmente una comunicazione puramente emotiva non è una comunicazione cioè non riusciamo ad ottenere assolutamente con una reazione emotiva forte non riusciamo ad ottenere gli scopi comunicativi che in quel momento vorremmo raggiungere sospendere la reazione emotiva e cogliere i bisogni reciproci permette proprio di scalzare e di buttare via le paure e ritrovare però una vicinanza di coppia che faccia star bene entrambi questo è importante costruire la giusta distanza non significa essere dei freezer non stiamo parlando di congelamento affettivo ma proprio l'esigenza di ristabilire come il porco spinisce open hour quella misura reciproca che permette di scaldarsi entrambi senza però farsi del male e questo è importantissimo Novara ci suggerisce di fare tre passi indietro ok il primo passo è questo non cercare il colpevole non c'è anche perché cercare il carnefice implica proprio quella convinzione che in ogni confitto ci sia per forza di cose un colpevole e che per risolvere la situazione bisogna individuarlo e punirlo stessa cosa lo sapete benissimo vale anche per i bambini smettere di cercare il colpevole significa anche riuscire a superare una logica di giustizia secondo la quale il conflitto è qualcosa di sbagliato ok e questo è importante punto due dare consigli e suggerimenti peggiora la situazione ecco questa è un po' l'immagine dell'altro evocativa il consiglio non richiesto è proprio una forma di sovrapposizione decisionale che può sfociare anche in un comando è poco rispettosa dell'altra persona e in più dal lato può essere vissuta come una forma di intimità quindi solo io ti conosco così bene da poterti dire cosa è meglio per te e dall'altra fa scattare anche la ritorsione non mi hai ascoltato nonostante il mio consiglio e un po' ti stanche bene ok è importante invece lavorare anche in questo caso sul tema del rispetto e della giusta distanza nei confronti dell'altro non c'è nulla di male ovviamente a dare un consiglio però è necessario anche chiederlo e chiedere il permesso ok è qui che subentra la plomb preservando rispetto e stima reciproca quindi l'altro non dipende da noi perché siamo fidanzati o sposati e qui si ritorna anche al tema dello spazio individuale tre non si tratta di vincere non è una gara voler avere ragione ad ogni costo voler superare il partner sentirsi sconfitti nel batti e ribatti provoca solo tensione e disagio la coppia esalta il suo potenziale quando riesce a fare un gioco di squadra e questo vale ovviamente all'interno anche del lavoro educativo che si fa nel nucleo familiare questa dinamica si ripropone anche nel rapporto con mia figlia adolescente conflitti continui eh sì assolutamente perché poi è una fase ciclica no? c'è una fase positiva fase adolescenziale anche la fase del conflitto dell'ambivalenza domanda ho attivato l'audio per la persona che ha posto la domanda Lisandra Bargigia e devi solo accendere il microfono intervenire magari non voleva parlare no scusate erroneamente ho cliccato grazie ok prova a ricliccare sulla manina così scende allora però avevo letto anche una domanda prima ok vediamo ho letto male io allora nelle domande non c'è prova a guardare nella chat sì ci sono c'era una domanda in chat sì la riesci a vedere tu la leggo io se volete sì grazie Claudia ok vediamo eh l'ho trovata l'ho trovata ok è più conveniente in una situazione ok il conflitto evitare di discutere immediatamente o affrontare quando le acque si sono calmate eh questa è una bella domanda ok eh assolutamente è meglio affrontarlo ok riuscire a riflettere prendersi del tempo riuscire a riflettere però starci dentro in quel momento perché proprio come diremo dopo anche è una questione non solo di rispetto reciproco starci dentro e viverlo insieme il conflitto anche immediato no poi ovviamente dipende anche dall'argomento dall'argomento ma anche dal dal contesto in cui sta avvenendo il conflitto perché poi c'è anche subentra anche la dimensione del pubblico eh del pubblico ovviamente lì ci sta il eh temporeggiamo procrastiniamo poi la reazione quello è importantissimo però è una questione di rispetto ed è una questione di eh comunicazione ti comunico che questa cosa noi la dobbiamo vivere la dobbiamo vivere insieme e lo facciamo adesso sicuramente in quel momento è importante fare quel famoso lavoro di cui parlavamo prima conto fino a dieci per eh lavorare sul sulla mia competenza emotiva sulla gestione di quelle che sono le mie competenze emotive quindi evitare di buttare fuori solo ed esclusivamente l'emotività ma fare quel lavoro di trasformazione quindi dall'emozione al bisogno che io intendo comunicarti in questo momento spero di essere stata esaustiva nella risposta ok grazie a te Sonia passiamo alla dimensione della genitorialità la transizione alla genitorialità quindi il passaggio dal patto di coppia coniugale al patto genitoriale genitorialità e coniugalità sono due dimensioni che sono interdipendenti da una parte e anche connesse quindi il legame di coppia può funzionare o da risorsa o da fattore di rischio delle funzioni genitoriali di ciascun genitore diventare genitore infatti come ben sapete significa diventare insieme all'altra un cambiamento importante un passaggio di crescita importante che si fa insieme è proprio tramite la dimensione di coppia che un individuo ha la possibilità di concretizzare ciò che per lui rappresenta l'essere divenire padre l'essere divenire madre quindi i figli sono proprio il segno visibile e indissolubile del legame esistente tra due persone sono il frutto proprio dell'incontro dell'unione di un uomo e di una donna ma non solo che decidono di fidarsi l'uno dell'altro ma soprattutto decidono di diventare insieme generativi cosa significa diventare insieme generativi essere capaci di estendersi quindi dare vita a progetti condivisi in un'ottica proprio di promozione sociale dell'umano quindi non è una cosa da poco diventare genitori ed è importantissimo partire da questa premessa ogni tanto anche ricordarselo nel momento in cui si litiga magari si litiga anche per banalità che poi non lo sono soprattutto sull'educazione dei figli e ci fa ritornare un pochettino al punto di origine è importantissimo la chiave della riuscita di questo processo passa poi attraverso una costante rinnovata accoglienza dell'altro attraverso la strada della legittimizzazione reciproca cosa significa legittimare l'altro ok legittimare l'altro significa continuare nel tempo a riconoscere e valorizzare il proprio coniuge nella sua diversità e ritorniamo ancora al tema della diversità poiché proprio per questa sua diversità che rappresenta per noi anche un'unicità no quell'unicità che ci ha fatto scegliere lui che ci ha fatto scegliere lei quindi è importante sempre aiutare e sostenere il partner nell'esplicitare l'importanza del proprio ruolo genitoriale questo è importantissimo qual è la sfida per i neogenitori consiste proprio nel dare origine e sviluppare poi quello che viene chiamato patto genitoriale ed è qui che sta il passaggio da patto coniugale di coppia al patto genitoriale che però deve essere anche in grado poi di recuperare quella quella dimensione della coppia del patto coniugale e quindi la coppia vive dei momenti di tensione di fatica legati non solo ai cambiamenti ma legato anche a questo lavoro di continuo cambiamento di assetto mentale organizzativo legato appunto a questo cambiamento questa crescita a questo essere insieme generativi a questo prendersi cura responsabilmente di un'altra persona quindi la coppia deve essere in grado ogni volta di privilegiare una dimensione sia quella di coppia ma anche l'altra quindi recuperare entrambe le dimensioni e questo è molto molto difficile soprattutto se pensiamo un po' ai ritmi frenetici che ognuno che ognuno di noi vive attualmente è molto faticoso quindi la coppia deve essere assolutamente considerata come dicevo poc'anzi il punto di partenza di ritorno e di rilancio per una genitorialità riuscita si parla di co-genitorialità che significa sostegno reciproco condivisione della responsabilità questo è importantissimo spero che sia fin qui sia tutto sia tutto chiaro riesco a vedere feedback però ecco il punto di ritorno è quello si parte sempre dalla coppia da dove abbiamo iniziato come evitare che i figli diventino un pretesto per i conflitti gestiti male i figli come ben ognuno di noi sa forniscono più occasioni e pretesti per litigare da un lato contribuiscono a unire la coppia soprattutto nel compito di educarli i due si sentono di condividere un lavoro educativo fondamentale al contempo però sono elementi di conflittualità presenti fin dalla prima età dalla tenera età la sfida della coppia diventa proprio quella di individuare un terreno educativo comune quando noi parliamo di coerencia educativa intendiamo proprio questo i bambini non hanno interessi nel far litigare i loro genitori il loro interesse è anzi quello di vedere adulti che condividono la loro educazione ecco i figli semmai possono non intenzionalmente ovviamente far emergere quelle che sono le debolezze materne e paterne quei lati emotivi personali di cui parlavamo prima che rivelano però come in quel momento l'attenzione della coppia sia catalizzata unicamente solo ed esclusivamente sui figli e non più sul partner può sembrare una sciocchezza ma non lo è quindi cosa succede che la coppia smette proprio di viversi come coppia sentimentale perdiamo un po' l'identità spesso magari sentiamo dire perdiamo anche non ci nominiamo nemmeno più sono la mamma di sono il papà di non esisto più io come persona ecco recuperiamo un pochettino quella dimensione perché è importantissimo non parliamo poi del partner specialmente quando nasce il bambino però questo è un argomento molto più profondo che non è il caso adesso anche perché rischieremo di banalizzarlo ma è importante ecco quindi un esempio quando si stabiliscono delle banali regole regole semplicissime magari relative anche alle tempistiche rispetto a quanto tempo vedere la televisione è importante essere coerenti e soprattutto essere molto semplici essenziali e chiari nella comunicazione quindi ciò vale e questo è un esempio anche di conflitto con i bambini ciò vale sia nella coppia ma anche con con i propri figli la comunicazione è verbalmente efficace ritorno anche a recuperare questo concetto una tecnica ad esempio molto semplice per aiutare i figli a seguire le indicazioni dei genitori ed evitare anche il conflitto tra mamma e papà è quella di parlare uno solo ok evitiamo così di creare delle sovrapposizioni verbali tra di noi che ne scano poi nei bambini bisogno di intervenire e finire magari poi noi a discutere quindi se uno se uno parla l'altro non interviene al massimo conferma questa ad esempio è una è assolutamente una strategia comunicativa di grande effetto quindi non è assolutamente legittimo attribuire la causa della propria conflittualità ai figli ok la coppia genitoriale fragile non è quella litigiosa ma quella che non riesce a recuperare proprio quello spazio di intimità sentimentale erotica e attiva che invece è recuperare assolutamente quindi perché perché per crescere bene i ragazzi anche gli adolescenti hanno bisogno di una coppia di genitori che non si fonda unicamente su di loro e ritorniamo anche qui sul tema dello spazio individuale ciò che vale e ripeto ciò che vale per la coppia vale anche per la dimensione familiare difficile tacere ogni tanto almeno per me mamma anche questo è un esercizio che ogni tanto possiamo fare se lo pratichiamo proprio come un esercizio invece riusciamo ad ottenere dei buoni risultati Antonella ok diciamo che siamo un po' fuori tempo ecco vorremmo proporvi anche un altro strumento ovviamente non vi chiederemo di non vi coinvolgeremo stasera si chiama lo stemma di coppia ok l'obiettivo di questo strumento è fornirvi uno spazio in cui poter focalizzare l'attenzione sull'essere coppia sulla progettualità proprio dello stare insieme quindi all'interno di questo stemma voi vedrete quattro parti noi chiediamo ciascuna coppia ok diventa proprio un lavoro di coppia di rappresentare graficamente in ciascuno di questi spazi quello che insieme al proprio compagno la propria compagna ritiene essere la più grande forza debolezza un motto e ciò che desiderate realizzare insieme come coppia ecco noi invitiamo a fare riferimento solo ed esclusivamente alla dimensione della coniugalità non a quella della genitorialità proprio perché questo strumento ha uno scopo la richiesta che noi faremmo poi Giovanna correggimi se sbaglio è quella di poterlo condividere sulla nostra pagina facebook potete anche ovviamente non firmarvi utilizzare anche dei nomi o pseudonomi inventati l'importante è fare questo lavoro insieme e crederci e recuperare soprattutto quella dimensione di coppia può sembrare banale però questo diventa proprio uno strumento di approfondimento di formazione non so Giovanna se vuoi aggiungere qualcosa diciamo che domani quando andiamo a pubblicare tutto il materiale relativo all'incontro di oggi nei commenti se volete potete mandarci i vostri stemmi in realtà che non è per niente social non lo sa che nel momento in cui si commenta lo si fa con la propria identità per cui noi vi lasciamo anche il nostro indirizzo mail che è infanziachiocciolacopairis.it e se volete condividere con noi dei pensieri in forma anonima ma anche gli stemmi poi ci pensiamo noi a condividerli con la nostra platea e sono pensieri come dire interessanti da socializzare ecco ok bene cercherei di arrivare un pochettino al dunque ecco che cosa questo è un concetto che ho anticipato poco fa è la parte un po' conclusiva del nostro mini percorso di questa sera dopo l'excursus dedicato al conflitto arriviamo proprio a mutare ribaltare non solo una prospettiva ma addirittura proprio una terminologia quindi non parleremo più di conflitto ma di coesione conflittuale cosa significa? significa riconoscersi reciprocamente senza voler però cambiare l'altro questo vale sia per il proprio partner che per i figli per gli amici per i colleghi parliamo di comunicazione conflittuale che si focalizza sulla divergenza esplicita ciò che non sta funzionando permette alle parti di rimanere in gioco e convergere però in un incontro quindi trovare un punto di incontro cosa significa? io te abbiamo un problema nessuno di noi due è colpevole ma ciascuno può fare qualcosa per un interesse comune quindi la comunicazione conflittuale non è sfogo o franchezza un esempio di frasi sbagliate possono essere allora cosa fate? vi date una mossa io la penso così poi vedete voi il mito io dico quello che penso è un mito sbagliato è pura tensione adolescente sei un adulto questo l'ho già detto e hai il dovere di filtrare e contenere l'emozione ma di starci nel conflitto in questo momento se ti fai travolgere l'emotività non ne vieni fuori ora arriviamo concludiamo con i basilari proprio per comunicare bene stai sul problema la slide 46 stai sul problema non attaccare la persona ascolta senza fare commenti una cosa importante che sottovalutiamo che quando parliamo di noi noi stiamo bene ci rilassiamo ci sentiamo ricompensati chi sta raccontando specialmente nel momento in cui si sta sfogando durante il litigio si trova in una dimensione di connessione interiore quindi ha proprio bisogno anche di ascoltarsi però soprattutto ha bisogno di essere ascoltato essere ascoltato e non commentato è un'esperienza che molte persone proprio nell'arco della loro vita non hanno mai potuto vivere quindi in quel momento se l'altra persona si sta sfogando noi dobbiamo essere dobbiamo avere la competenza di porci in ascolto questo è importantissimo questo vale sia per la coppia che per la coppia conviviale che per la coppia genitoriale l'importanza dell'ascolto dell'ascoltare ti ascolto mi interessa che tu possa sentirti libero o libera di esprimere quello che hai dentro questo è un grandissimo esercizio un esercizio potentissimo e questo ci può aiutare anche a capire meglio il problema e permetterci anche di affrontarlo insieme due prendi sul serio ma non alla lettera è importante sospendere i giudizi valutativi sulla persona però è anche fondamentale non focalizzarsi sulla concretezza dei contenuti della comunicazione cosa significa quando il partner dice me ne andrò via scappo via ovviamente non dobbiamo dare credito a quello che sta dicendo dobbiamo fare uno sforzo di comprensione questo vale soprattutto in adolescenza me ne vado via da questa casa sviluppare una certa capacità interiore di sdrammatizzare e sdrammatizzare non significa sminuire quello che altro sta dicendo ma riuscire invece a cogliere il bicchiere mezzo pieno persino di fronte a un'aggressività verbale anche questo è importantissimo non prendiamocela in quel momento ma cerchiamo di sdrammatizzare una competenza elevata anche questa tre da informazioni da informazioni proprio perché sono più utili rispetto ai consigli questo è un discorso già che abbiamo affrontato qual è la sottile differenza l'informazione non pretende nulla è un'offerta di conoscenza il classico esempio sto controllando il meteo e dicono che là ci sono 12 gradi è diverso da ti consiglio di portarti almeno due maglioni perché lì fa sempre freddo è una frase che mantiene proprio lo spazio reciproco nella coppia e quindi garantisce proprio il rispetto della posizione e della decisione dell'altro quattro fai delle proposte funziona più che dare ordini fare proposte senza pretendere obbedienza è assolutamente inutile tentare una proposta ovviamente però mentre siamo entrambi troppo tesi no? particolarmente arrabbiati bisogna anche lì fare un lavoro di riduzione del coinvolgimento emotivo cinque chiedi il permesso e non sarai considerato invadente come faccio a raccontargli di nuovo che ho perso per la terza volta le chiavi di casa questa diventa proprio una tecnica efficace piano piano in punta di piedi possiamo parlarne una frase che sembra banale significa invece essere umili trasmette umiltà conflittuale all'altro in più ti dà la possibilità anche di tutelare uno spazio temporale dedicato al conflitto quindi troviamo insieme un luogo un momento adeguato e al contempo è anche molto apprezzato dall'altro sei fai solo le domande di cui non conosci già la risposta ok? inutile che io pongo delle domande che non hanno nemmeno senso rispetto alla reciprocità alla comprensione dell'altro qui trattiamo un altro tema che è quello della domanda maieutica che ha proprio la funzione di tirare fuori il meglio delle persone ok? questo è importantissimo io non so Giovanna se possiamo affrontare anche forse siamo un po' fuori tempo magari lasciamo la lasciamo nei contenuti che vi mandiamo per iscritto va bene? anche perché è molto interessante anche quella va bene niente direi che per quanto mi riguarda il mio intervento visto che siamo fuori tempo si conclude si conclude così spero di essere stata un po' esaustiva in merito all'argomento ma soprattutto che si è riuscita un po' a catalizzare l'attenzione anche su tutto il contesto tutta la cornice legata al tema del conflitto all'interno della coppia e della famiglia se ci sono interventi domande è il momento di visto lei c'è una molto esaustiva grazie dice Paola se volete Antonella grazie mille per la serata l'argomento trattato interessante fonte di riflessione scusate avevamo preparato anche delle slide sulla bibliografia ve le faccio giusto vedere perché ne possiate prendere visioni dopo di che faremo in modo di farvele avere così chi è interessato ci sono le slide sono arrivate in condivisione aspettate perché qui arrivo condividi perfetto un momento di ritardo ecco dovevi dirci qualcosa rispetto a questo io suggerisco veramente allora questo questo è un testo anche come tutti i testi di Daniele Novara comunque leggibili in maniera molto semplice e fluida quindi assolutamente sì molto interessante poi all'interno del testo ci sono anche altri test carini da poter fare anche in coppia ma anche individualmente quindi assolutamente sì suggerirei tutta la bibliografia di Daniele Novara le sorprendenti funzioni della rabbia come dicevo prima è un testo piccolissimo lo leggi nel giro di mezz'ora un'ora al massimo veramente veramente anche questo utilissimo davvero è scorrevole questo l'abbiamo utilizzato per le immagini questo è un regalo che ci si può fare perché nella libreria di casa insieme a un altro testo delle stesse autrici che si intitola mamma non deve mancare ve lo suggeriamo proprio praticamente questo è un regalo per voi mamma è un regalo per tutti per tutta la famiglia ecco questo è un testo proprio più tecnico che può essere utile magari per chi svolge il nostro stesso percorso lavorativo o comunque fa anche un percorso accademico questo assolutamente è un testo formativo di alto livello che io suggerisco questi erano i nostri grazie per la serata ottimi spunti per migliorarsi fino a che punto in quale modo può considerarsi educativo per i figli assistere alle discussioni dei genitori ok e questa è una bellissima domanda ok ricordiamoci sempre che noi siamo un modello per i nostri figli e siamo sempre dei modelli educativi dei modelli di riferimento non demonizziamoci ecco un pochettino suggerimento che noi diamo spesso alle famiglie cercare magari facendo proprio questo lavoro anche estrapolando i concetti fondamentali che sono emersi da questo incontro cercare nel momento in cui subentra e emerge il conflitto di coppia riuscire a trovare a fare un lavoro su di sé trasmettere anche in quel momento dei principi educativi come siamo coinvolti all'interno di quel conflitto il conflitto è bene trasmettere questo ai bambini non è qualcosa di cui avere paura ma assolutamente qualcosa che ci può aiutare invece a intraprendere un percorso di crescita diventa palestra di vita fa parte della nostra vita ok noi ti dimostriamo e ti dimostriamo educativamente come due persone sono in grado all'interno di un conflitto appunto di confluire tra di loro e trovare la risoluzione di un problema perché il conflitto nella vita ce lo sanno bene i nostri piccoli del nido rubare un gioco diventa un episodio di conflitto conflitto assolutamente fisiologico che diventa palestra di vita in cui emerge la possibilità anche di attualizzare delle competenze evolutive fondamentali allora chiedevano se è possibile rivedere la registrazione sulla pagina facebook di cooperativa iris è sicuramente disponibile sempre anche in differita e poi il tempo qualche giorno verrà caricato anche sul canale youtube e poi troveremo di cooperativa che poi troveremo il modo di ricondividere e di rendere disponibile più facile e anche passarselo attraverso le chat di whatsapp ringraziano per le risposte che per la serata Giole salutiamo con l'ultima cosa che avevamo avevi scelto di leggere è una pagina del libro innamorati che abbiamo visto nella 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 bibliografia vi leggo c'è una domanda però mi fermo un attimo sì una domanda interessante tra l'altro anche davanti bambini molto piccoli che non comprendono magari certe dinamiche può non considerarsi deleterio discutere dipende da come gestiamo la discussione siamo sempre lì per quello che noi dobbiamo fare un lavoro importante su noi stessi perché un conto è vivere il conflitto in maniera costruttiva quindi viverlo affrontarlo insieme trovare una soluzione quindi c'è un percorso proprio che inizia ma anche che si conclude che si conclude trovando una soluzione importante un punto un punto di vista poi che va a confluire insieme una sorta di negoziazione un conto invece fa subentrare solo esclusivamente ed è lì che diventa deleterio la componente emotiva forte quindi assolutamente in quel caso no è ovvio perché anche qui bisognerebbe approfondire molto l'argomento io intanto vi leggo così riempio i momenti di vuoto poi se doveste avere altre domande scrivetele pure e poi ci salutiamo che domani è una giornata impegnativa per tutti da innamorati il caso mi ha fatto un regalo te il pacchetto mi è piaciuto subito occhi che sorridono capelli che brillano labbra che baciano ho aperto la scatola ho trovato una spalla sinistra su cui addormentarti delle battute dei desideri della tenerezza dello zucchero e delle scintille poi ho trovato nasini da soffiare pupazzetti mordicchiati battibecchi mani imbrattate di marmellata sulla mia gonna una storia di coccinelle la sera uova di cioccolato nascosta in giardino quaderni da ricoprire caramelle nelle tasche dentini sotto il guanciale canzoni urlate a squarciagore in macchina incubi a mezzanotte salti sul letto alle sei del mattino rimproveri da sentire malinconie da ascoltare una famiglia da inventare che regalo non potevo immaginarne uno più bello Claudio vuoi aggiungere qualcosa? no a questa frase no per questo che volevamo concludere così ti lascia un po' senza parole no? questa normalità bene noi vi ringraziamo tantissimo di aver resistito fino alle dieci e quaranta siete stati tantissimi sinceramente non avevamo aspettative perché è difficile con questi eventi comprendere quali sia l'interesse e la risposta però ci avete seguito in tanti nel webinar e anche tanti attraverso facebook a ondate quindi c'erano dei picchi poi quindi grazie grazie davvero un bel riscontro e grazie anche dei complimenti che arrivano attraverso la chat grazie mille buona serata a tutti grazie a tutti buona serata grazie Giovanna grazie mille Giovanna ciao a tutti grazie a tutti